ridotte l'altra volta mi sono sbagliato non so neanche come ho fatto si vede che era già da un po' che non le usavo comunque ridotta se tiro questa verso qua verso l'interno folle sono in folle così è normale così invece andando piano sono le ridotte quelle corte adesso sono le ridotte corte ah scusa no le ridotte lunghe adesso sono le ridotte lunghe no adesso sono le ridotte lunghe per tornare a quello normale adesso lo rifaccio per tornare a quello normale sono durissime si sono indurite di nuovo vediamo se mi escono si sono indurite un'altra volta ecco fatto perché bisogna andare un po' avanti se no non se no non entrano questa è una è una waz capito montata alla caz e quindi le ridotte sono un po' alla caz alla waz non metto quelle non metto le ridotte quelle corte ho messo quelle lunghe ma non metto quelle corte perché se no qui rimaniamo in bratta e non ci muoviamo più ecco di nuovo l'ho messa l'altro giorno la benzina e ovviamente mi da di nuovo l'allarme va bene let's go ah ecco ho messo i campanellini e dopo vi metterò la foto eeeh dei fanali fantastica sembra Marilyn Monroe Lulù bellissima va ah Lulù guarda che bella dimmi se non è bella è lei ciao